Le province non solo continuano ad esistere, ma continuano a tutelare il loro territorio. A Pescara Antonio Di Marco, neo eletto presidente, celebra l'apertura di un nuovo presidio dei Vigili del Fuoco. Il segnale tangibile di un impegno alla vigilanza e alla sicurezza dei comuni. È la dimostrazione che le province lavorano seriamente in Italia anche in questo momento di cambio di passo. Noi abbiamo la necessità di difendere tutti i territori, da quelli più centrali e metropolitani a quelli più all'interno della provincia stessa. In questo caso è l'area Vestina. Brindare oggi, prima di Natale, all'annuncio ufficiale da parte del Governo di un distaccamento con 24 persone nell'area Vestina, esattamente tra Penne e Loreto, significa voler bene alle aree interne e soprattutto presidiare con attenzione e determinazione nelle esigenze quotidiane dei territori. È una rilevanza straordinaria in termini di maggiore sicurezza per tutti i cittadini dell'area Vestina. Oggi siamo riusciti ad ottenere un risultato molto importante che è la realizzazione di un distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco nell'area Vestina. Noi speriamo che venga ubicato a Penne in una porzione della caserma attualmente occupata dalla Polizia Stradale. Si tratta comunque di uno straordinario risultato raggiunto da tutta l'entroterra Vestina grazie ad un'azione sinergica tra amministratori comunali, parlamentari, rappresentanze sindacali dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale e Prefettura. Grazie a quest'azione sinergica siamo riusciti ad ottenere un risultato che auspicavamo da anni e che finalmente oggi si realizza. L'area Vestina e Penne avranno finalmente una caserma dei Vigili del Fuoco.